Si è svolto domenica mattina presso la splendida cornice dell'area archeologica di Cuma il primo trofeo città di Pozzuoli. La manifestazione, organizzata dalla SD Arco Puteoli, ha visto partecipare 41 atleti provenienti da 5 regioni italiane. In palio c'era l'accesso alle qualificazioni del campionato italiano della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. Dai giovanissimi ai Master le categorie che si sono sfidate per raggiungere il punteggio massimo al meglio di 72 frecce, al quale è seguita la fase di scontri diretti per decretare i vincitori del premio. Nella categoria giovanissimi Davide Nappi e Caterina Del Piano, primi classificati. Nella categoria Arco Olimpico, allievi e Master, Biancone Arianna e Montanino Luigi. Una splendida giornata all'insegna del divertimento e della cultura. Numerosa la partecipazione di pubblico per uno sport che, anche grazie alle Olimpiadi, sta riscuotendo un notevole successo, attirando sempre di più l'attenzione dei giovani.